Il sinistro di cambiasso per Tevez, c'è Frinks che si aggrappa alla maglietta di Tevez e che riesce comunque a liberarsi della morsa dell'avversario. Cruz, il passaggio per Tevez, lato corto dell'area di rigore, carica il destro ma da posizione molto centrale. Il numero 11 sudamericano Tevez, Maxi Rodriguez vede libero Tevez sul settore destro, se ne va, guadagna il fondo Tevez prima di effettuare il cross, bassissimo. Interviene il numero 21 dell'undici tedesco, vale a dire Mezelder. Mascherano nella prima circostanza ha offerto un buon pallone a Tevez, proprio ai 25 metri. C'è Sorin che batte questa ribessa con le mani per Tevez, prova ad accentrarsi, sta per caricare il destro, poi si ferma improvvisamente Tevez. Indietro per Tevez, lato corto dell'area di rigore tedesca, Tevez cambia il gioco, beneficio di Coloccini. Mascherano innesca il movimento di Tevez sul settore di sinistra, deve rientrare Cruz perché si trovava in posizione irregolare. Bravissimo Tevez, Maxi Rodriguez ancora per Tevez, possibile riconclusione, pallonetto di Tevez. Ha provato un cucchiaio proprio di quelli che prova costantemente Francesco Totti. Tevez ha provato a sorprendere l'estremo difensore della Germania, Lehmann, che era comunque ben appostato, ma era completamente errato il pallonetto del giocatore dell'Argentina di Tevez.